Non voglio fare nessun commento sull'imprenditore perché mi sembra che sia veramente inopportuno, anche perché veramente è una cosa indiscrevibile. Non lo conosce? No, non lo conosco. Per fortuna non lo conosco. La presa di distanze dall'imprenditore Vicentino, ormai diventato emblema di quello che non deve essere fatto, è netta e arriva da chi rappresenta le aziende italiane proprio in Serbia, ovvero dal presidente di Confindustria Serbia, Patrizio De Tossa. Trevigiano è noto imprenditore del legno che conferma come nel paese balcanico il virus stia dando parecchi problemi. Purtroppo la situazione oggi secondo me è sfuggita un po' di mano perché hanno tutti gli ospedali pieni, ma soprattutto hanno ancora il virus, non so se è il termine corretto a dire il virus originale, perché questi finiscono in ospedale purtroppo con polmoniti e problemi seri. Insomma la Serbia rischia una nuova fase 1 e non è l'unico paese guardando a est. La Serbia sta rischiando il lockdown di nuovo, sta rischiando, secondo me dovranno farlo, dovranno prendere questi provvedimenti. Purtroppo la popolazione sta protestando sia perché non vogliono andare in lockdown, sia perché la gestione della situazione a loro vedere non è stata corretta. Gli imprenditori italiani all'estero, rassicura dei TOS, stanno facendo il possibile per garantire la sicurezza dei collaboratori. Da qui il plauso all'ordinanza di Zaia che sancisce l'obbligatorietà dei tamponi per i lavoratori che rientrano da trasferte in paesi fuori dall'Unione Europea. I provvedimenti presi dal nostro governatore sono stati corretti e anzi li ringrazio perché ha anche dato la possibilità di fare il tampone gratuitamente per quelli che vanno per lavoro, quindi è assolutamente corretto. Resta poi la questione economica più generale, inevitabile per questo guardare all'autunno, già da più parti definito nero. Non sarei così pessimista su tutte le chiusure che annunciano, anche se confermo che comunque il 20% del fatturato l'abbiamo perso e difficilmente lo riprenderemo.